Grazie a tutti voi bambini, insegnanti, artisti di essere qua oggi. Grazie veramente perché mi ha commosso il vostro lavoro, il vostro lavoro che veramente attesta un messaggio di pace, di fratellanza e di amicizia. Ed è un messaggio importantissimo e imprescindibile se vogliamo un mondo migliore. E voi farete per noi e per tutti un mondo migliore. Ne sono certa, ho visto i vostri disegni, ho visto i disegni vostri e dei bambini che oggi non sono qua con noi ma sono qua con noi e quindi sono certa che renderete il mondo migliore col vostro impegno. Quindi ringrazio veramente tutti voi, ringrazio naturalmente la straordinaria Nadia De Lazzari perché senza di lei tutto questo non sarebbe stato possibile e certo ho risposto dopo due ore perché la sua passione mi ha coinvolta e travolta. Ed è la stessa passione che noi abbiamo portato nel restauro di questi giardini e che ogni giorno la fondazione con i giardinieri straordinari portiamo nel giardino per renderlo bello, per custodirlo e per salvaguardarlo. Ed è la stessa passione che mi ha travolto e che ringrazio perché questa è veramente la responsabilità e quello che si dice oggi, si parla tanto di sostenibilità. Questa è la sostenibilità. Questi progetti, voi, questi giardini, questa è la responsabilità per un mondo migliore. E naturalmente ringrazio tutte le autorità qui oggi presenti perché hanno sostenuto questo progetto ed è importantissimo che ci siano anche loro al nostro fianco. Grazie, grazie a tutti.